Matteo Di Piazza sarà il punto di riferimento dell'attacco della Fidelisandria che tra qualche giorno affronterà la Paganese nella gara 1 dei play-out. L'attaccante è stato assente per un lungo periodo a causa di un infortunio e solo da 15 giorni sta cercando di mettere pian piano minuti nelle gambe. Chissà se da ex Benevento il bomber di Partinico viverà questa sfida come un derby. Fatto sta che il duo di Leo di Bari punta sul cinismo di Di Piazza, nome che insieme a quello di Bubas impensierisce le difese avversarie. Inutile pensare di raggiungere il Marcello Torre con l'idea di strappare un punticino agli avversari perché la squadra di Raffaele di Napoli punterà a vincere la sfida per poi giocarsela degli olivi. Casoli e compagni sabato devono scendere in campo con la mentalità cursara. Inutile girarci attorno alle parole, il match di Pagani è il più importante della stagione. La buona notizia è che dopo la squalifica Riggio tornerà al centro della difesa e c'è ancora la possibilità di recuperare buona volontà dopo il suo infortunio muscolare. Più difficile invece la presenza di Nunzella che potrebbe invece recuperare per la gara di ritorno al degli olivi. La comitiva azzurra ha il professionismo ancora in tasca, obiettivo non farselo sottrarre da chi dei play-out è diventata squadra espertissima.